e questo è il nostro noa altamente disinteressato alla fratellanza con l'amichetto sentivo si chiama Greco forse comunque a Greco lui non ha dato niente della sua merenda e vi dico questo segreto anch'io ero così non davo mai nulla della mia merenda a mia sorella infatti lei è rimasta magrissima io continuavo a mettere il suo culo a questo invece erano a con gli occhiali del papà Bianca Zè invece in Sicilia chi la vuole vedere si esibisce stasera al solarino non chiedetemi cos'è credo un teatro vi lascio così ciao